Dal contrasto all'immigrazione clandestina, la gestione dell'ordine pubblico durante le manifestazioni, vediamo i contenuti del decreto sicurezza bis con Alfredo Cardone. Porti chiusi alle navi, il ministro dell'interno avrà il potere di limitare o vietarne l'ingresso, il transito o la sosta in acque territoriali per motivi di sicurezza. In caso di violazione del testo unico sull'immigrazione o di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aumentano le sanzioni fino ad un milione di euro per il comandante della nave e in alcuni casi è previsto anche il sequestro dell'imbarcazione. Arrivano poi risorse aggiuntive per la polizia impegnate in operazioni sotto copertura fino a 3 milioni di euro nel triennio 2019-2021. Altro capitolo, gestione dell'ordine pubblico, con l'introduzione di una nuova fattispecie delittuosa per sanzionare chi nel corso di manifestazioni utilizza fuochi, pedardi o ancora mazze o bastoni. È prevista un aggravante se il reato è commesso nel corso di manifestazioni aperte al pubblico, l'uso dei caschi o di qualsiasi altro dispositivo che renda irriconoscibile una persona sarà vietato. Gli ultimi articoli del decreto si occupano delle misure di contrasto della violenza nelle manifestazioni sportive. In particolare può essere impedito l'accesso a chi abbia denunce pendenti o abbia preso parte a episodi violenti, anche all'estero o anche semplicemente in caso di incitazione alla violenza.